Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Lutto in Mediaset, il triste annuncio di Mirta Merlino. Durante l'ultima puntata di Pomeriggio 5, andata in onda mercoledì 27 novembre 2024, Mirta Merlino si è ritagliata alcuni minuti per salutare una persona che è venuta a mancare all'improvviso e che ha lasciato un vuoto in tutti coloro che lavorano a Mediaset. Vediamo insieme le parole toccanti della nota conduttrice di Canale 5. Io vorrei dedicare un pensiero a Fabio Perrone, un cameraman, un collega, che ci ha lasciati. Poi la conduttrice, come riportato da Caffeina, ha sottolineato quanto Perrone fosse parte integrante della squadra dietro le quinte. Poi Mirta Merlino ha concluso il suo intervento a Pomeriggio 5, esprimendo le sue più sentite condoglianze alla famiglia del cameraman. Ai familiari di Fabio va tutto il nostro affetto e le nostre condoglianze. Ciao Fabio. Fabio Perrone resterà nei ricordi di chi ha condiviso con lui momenti di lavoro dietro le quinte di Mediaset. Grazie. Grazie.